Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, Vienna, capitale dell'impero asburgico, è certamente una delle città intellettualmente più vivaci del mondo. È una città piena di spunti e di stimoli per l'architettura, per la pittura, ma anche e soprattutto per la scienza, con la nascita della psicanalisi freudiana, per la letteratura, per la musica. Insomma è la vera rivale di Parigi come città di riferimento per la modernità. Tuttavia il gusto dell'imperatore Francesco Giuseppe era molto convenzionale, molto tradizionale e l'insegnamento dell'Accademia di Belle Arti di Vienna rispecchiava le tendenze e le preferenze del sovrano. Ecco il motivo per cui un gruppo di artisti di più avanzate tendenze si stacca dall'Accademia e dà vita ad un movimento che si chiama Secessione, parola da prendere con le pinze in un impero multietnico e multinazionale come era l'ormai fragile impero austro-ungarico. Ma dicevo, dà vita a questa Secessione che è uno dei movimenti più vivaci, più intensi, più freschi proprio dell'arte della fine dell'Ottocento. Capo scuola della secessione viennese è Gustav Klimt, un artista che certamente si pone in contrapposizione rispetto all'Accademia, ma che viene ben presto amato dalla borghesia imprenditoriale viennese, per cui è sì un anticonformista, ma diciamo così un anticonformista per bene, amato proprio dalle classi più agiate di questa raffinata società che si stava affacciando al Novecento. Per le proprie esposizioni il gruppo della Secessione sceglie di costruire un apposito padiglione, insomma un edificio, una palazzina a ridosso del centro storico di Vienna che serviva come spazio espositivo collettivo per gli artisti che aderivano a questo movimento. Questo palazzetto prende il nome di Secessione. Viene costruito dall'architetto Olbrich con la consulenza di Klimt ed è caratterizzato da candide superfici murarie decorate in modo molto raffinato da una cupoletta in metallo dorato traforato e da alcuni fregi allusivi. In qualche modo questo è un edificio che segna una svolta radicale rispetto alla sobrietà pomposa della architettura imperiale di fine secolo. L'attuale aspetto della secessione di questo palazzetto risale alla mostra che venne organizzata nel 1902. Per quella occasione Klimt e i suoi amici organizzarono una mostra dedicata a Beethoven. Max Klinger, uno scultore, aveva costruito un monumento celebrativo per il musicista in marmi, policromi e altri materiali, ma soprattutto Klimt aveva decorato la sala inferiore della secessione con un fregio pittorico lungo le pareti che è ancora oggi conservato e che rappresenta la Nona Sinfonia. Ora, la Nona Sinfonia è un monumentale capolavoro di Beethoven ma è, per così dire, astratto e invece Klimt traduce le emozioni suscitate dalla Nona Sinfonia in una serie di immagini di figure e queste figure rappresentano il contrasto tra la luce della ragione, che alla fine avrà la meglio, sulle potenze oscure dell'ignoranza. Quindi tra figure mostruose, scimmioni, donne laide e sformate, ecco che alla fine si arriva a questa apoteosi della bellezza e dell'armonia, che Klimt poi raffigurerà in modo indimenticabile nel suo quadro più famoso il bacio che segna proprio il trionfo dell'amore su qualunque altra potenza al mondo.